e la classe di oggi andiamo a vedere la parte dell'automobile allora questo sono per tutti gli amanti di auto è una classe un po per per loro allora iniziamo con quindi questa è la macchina o automobile iniziamo dal portabagagli questa parte qua il portabagagli la targa il paraurti tutta questa parte qua il paraurti poi abbiamo lo stop il coprimozzo la portiera la ruota quindi questa è la ruota e questo è il battistrada poi abbiamo quindi il cofano la parte anteriore il cofano il parabrezza lo specchio retrovisore poi questa parte qua è il tergicristallo il faro la freccia poi ci sono varie parti l'indicatore di benzina l'indicatore di velocità il contachilometri lo sterzo possiamo dire lo sterzo o il volante il clacson quindi suonare il clacson è l'azione poi abbiamo l'ammortizzatore la candela la candela il motore il motore dell'auto la cintura di sicurezza il sedile possiamo dire sedile o seggiolino generalmente è più corretto dire sedile la marmitta il tubo della marmitta o il tubo di scappamento il tappetino i cavi della batteria la batteria la tannica di benzina l'olio l'olio per il motore l'imbuto l'asta dell'olio quindi olio l'asta dell'olio il clic poi abbiamo i pedali questi sono i pedali pedali iniziamo da pedali acceleratore il freno la frizione e questo è la leva di cambio o possiamo dire semplicemente cambio ciao alla prossima